Ci sono anche Caltanissetta e Gela tra i luoghi considerati a rischio in merito alla creazione di discariche abusive, come segnalato dal gruppo Respect Sicily che ha tracciato una mappa sulla situazione dell'abbandono indiscriminato di rifiuti nella nostra regione. Si tratta di un'iniziativa spontanea di un gruppo di ragazzi che attraverso il social network Instagram ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul problema rifiuti. Dal 1 gennaio a oggi il gruppo Respect Sicily ha ricevuto 131 segnalazioni sulle discariche abusive siciliane e i componenti del gruppo le hanno suddivise per livello di rischio. Nel periodo recente a Caltanissetta sono stati segnalati diversi casi di abbandono irregolare di rifiuti, sebbene siano parecchi i cittadini virtuosi che conferiscono regolarmente la spazzatura. Nel territorio gelese una recente inchiesta della magistratura ha portato all'applicazione di alcune misure cautelari per trasporto e sversamento irregolare dei rifiuti, che in alcuni casi venivano anche dati alle fiamme in spazi aperti.